Roadshow Sissaggio Guida Sicura, progetto sulla sicurezza stradale, è arrivato alla sua conclusione. Nato da una sinergia tra Regione Campania, Anci Campania, Associazione Meridiani, APSSD, l'ultimo evento si terrà mercoledì 17 maggio alla Mostra d'Ultemare, la presentazione nella sede del CONI della Campania di Napoli. Ai saluti di Agostino Felsani, delegato provinciale del CONI Napoli, Gianfranco Coppola, Presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, è seguito l'intervento di Carlo Marino, Presidente dell'Anci Campania. I nostri giovani che hanno compreso che la loro sicurezza è la nostra vita. Noi possiamo continuare a vivere in nostra città se loro siano sicuri. Per vivere sicuri si devono divertire, stare bene, ma anche mettersi in sicurezza. La loro formazione per noi è fondamentale, noi sindaci abbiamo creduto in questo progetto e per i prossimi tre anni, già con la Regione Campania, già con Meridiani, già con gli altri soggetti istituzionali, siamo pronti a continuarlo. Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza e alla Legalità della Regione Campania, ha sottolineato l'importanza dell'evento. È importante questo percorso, è importante sarà la manifestazione finale che stiamo costruendo per il 17 maggio, proprio per rinforzare la consapevolezza di una guida sicura, di una saggezza che è davvero necessaria. Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, si è detto molto soddisfatto di come questa iniziativa stia andando avanti in questi ultimi anni. Siamo contenti di aver messo in campo risorse per rendere possibile questo programma, soprattutto nei confronti di ragazzi delle scuole superiori e dell'università, che sono quelli più a rischio di incidenti stradali. Pensiamo di continuare, pensiamo di migliorare e abbiamo fatto una programmazione anche per il prossimo triennio. Credo che siamo l'unica e la prima regione in Italia a avere fatto un programma di questo tipo. Il progetto si avvale della partecipazione del personale dell'Università dei Studi di Napoli Federico II, di quella della Van Vitelli, dell'ANAS, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e di PIARC, l'Associazione Mondiale della Strada, insieme ad altre tantissime istituzioni tra le quali la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, insieme con la Scuola Regionale della Polizia Rogale. Le lezioni formative e divulgative sono state tenute da esperti sulla sicurezza stradale, coadiuvati da Alfonso Montella, professore di sicurezza stradale dell'Università di Napoli Federico II e presidente della Commissione Tecnico-Scientifica Sissaggio Guida Sicuro.